del Milan cresce un certo Lyon Brady con Puschedu a fargli da spalla. Parte il sinistro del maestro irlandese Franco Barese incerto, Barbutinò di collo destro infilza Galli con un diagonale maligno. Un gol alla Maradona se Diego permette. Il centroavanti toscano è andato a pescare il jolly proprio sul tappeto più prestigioso, se lo ricorderà per chissà quanto tempo. E' il gol partita. A San Siro fa freddo. Si infortuna Corti alla fine del tempo, leggera contusione alla testa ed entra Pazzagli nella ripresa. L'Idolm cambia Evani con Di Bartolomei e sposta Massaro sul corridoio di destra, accentrando maggiormente Donadoni. Riprende l'assalto ma l'ardore del diavolo risponde alla freddezza dell'Ascoli. Anche Pazzagli dice stop ad Italy. Sul podio di San Siro il maestro è sempre lui, Lion Brady. Per fermarlo Baresi è costretto al gioco duro. Dicevamo la sfortuna del Milan però. Massaro per Virdis, testa e Pazzagli devia sul palo. Galderisi entra ad un quarto d'ora dalla fine, mai tardi. E' fatta signor sensibile, complimenti. L'Ascoli vince 1 a 0, il totocalcio ringrazia. Qualche fischio per Lidl e negli spogliatoi qualche sfogo. Noi forse avevamo una carica maggiore perché anche la vigilia ci davano già sconfitti, già sconfitti. Quindi questo qui io ho cercato di preparare la partita su questo motivo, a dire sì siamo sconfitti per i giornalisti, per l'opinione pubblica, ma noi siamo degli esseri umani, delle persone che vogliamo dimostrare che anche a San Siro e con i grandi campioni siamo capaci. Avere Lion Brady in squadra è ancora un affare comunque. Sei vecchio come? Magari non lo pensi. Io direi di sì. Lei pensa che era sbagliato? Ma non credo, poi l'ho detto stasera, stasera rivediamo la televisione. Io sinceramente mi sono messo nella posizione migliore, questo qua ha trovato questo gran tiro. Merito anche a chi fa gol, non andiamo sempre a cercare. Ora adesso qua si sta sempre andando a ritroso, nel senso a guardare quello che è successo in passato e mi si sta caricando sempre di colpe anche quando magari io sono da una parte il pallone dall'altra, magari si sbaglia una palla in mezzo al campo e si va a cercare i grandi. A questo punto io sono tranquillo e cerco di fare il mio ruolo nel modo possibile, poi alla fine si tirerà.